La Delta Dolce Vita è una penna stilografica iconica, apprezzata da collezionisti e amanti della scrittura per il suo design elegante e la qualità dei materiali. L'azienda Delta nasce nel 1982, fondata da Ciro Matrone, Nino Marino e Luigi Muscente. Il design della Dolce Vita è un mix di classicità e modernità. Le linee sono morbide e armoniose, con dettagli che richiamano lo stile degli anni 30. La Clip, ad esempio, è dotata di una rotellina che facilitava l'inserimento nella tasca della giacca. I materiali utilizzati per la costruzione della Dolce Vita sono di alta qualità. Si trovano versioni con corpo in resina pregiata, finiture in metallo prezioso e pennini in oro 14 o 18 carati. I pennini Delta sono rinomati per la loro fluidità e precisione. La Dolce Vita offriva una vasta gamma di pennini, da quelli extra fini ai Broad, per soddisfare le esigenze di ogni scrittore. Nel corso degli anni sono state prodotte numerose varianti della Dolce Vita, con diverse combinazioni di colori e materiali. Tra le più famose ricordiamo la versione Suare, con dettagli in argento e un abbinamento cromatico particolare. La Dolce Vita offriva un'esperienza di scrittura fluida e piacevole, grazie alla qualità del pennino e all'equilibrio della penna. Il design senza tempo la rendevano una penna sempre attuale e elegante. La Dolce Vita è una penna molto ricercata dai collezionisti, soprattutto le versioni più rare e antiche. Se stai acquistando una Dolce Vita usata, assicurati di verificarne l'autenticità e le condizioni e scegli il pennino in base al tuo stile di scrittura e alle tue preferenze. La Delta Dolce Vita è più di una semplice penna stilografica. È un oggetto di culto per gli amanti della scrittura e del design. Se stai cercando una penna elegante, affidabile e che possa diventare un oggetto da collezione, la Dolce Vita potrebbe essere la scelta perfetta per te.